non ci guardi neanche santo io ci guardo sempre invece perchè c'è dietro sempre lì vecchiotto no, non è vecchiotto se lo prendo in tiro non ci ho detto sono gli abiti pochi rasi e panchettini un altro coccoletto un altro coccoletto è saltato un bel fuoco un altro coccoletto vieni a coglielo vieni a coglielo quell'uomo se li ha 50 anni e ci viene è una coglielo che funziona bello ci manca il rosso oggi adesso ho trovato anche questo ecco a voi la leona del fungo la mia moglie che appena gli ho detto che c'era un bel fungo corre a un avvolturio per venire a coglielo andiamo vai ti voglio vedere fare il tuffo eh te lo vedi te lo vedi eh te lo vedi te lo vedi ma è questo questo è bello guarda la oh questo è tutto questo è un bel fungo questo è un bel fungo bello 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 è ma puntavo via no no te lo vedi anche fuori io guarda la mia se non ci vuoi fare la forza se non lo voglio la faccio più forte la faccio più forte va a che buona ecco eccolo la faccio più forte ooo ein il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info